mamma ti posso fare una domanda certo dimmi amore ma che cos'hai nella pancia un bambino un bambino e chi te l'ha dato beh amore in un certo senso me l'ha dato papà a papà capito mamma torno subito papà eh eh amore dimmi tutto sto lavorando di di parla posso farti una domanda ma certo tesoro dimmi pure è vero che hai dato un bambino alla mamma beh in un certo senso sì ho dato un bambino alla mamma papà che c'è amore non fallo mai più perché perché la mamma se li mangia si era bene non lo faccio mai più se li mangia per i bambini incredibile